Ciao e benvenuto nel nostro canale YouTube. Oggi ti porteremo alla scoperta, dell'area sosta camper a Brugge in Belgio. L'area sosta camper, Campground Bargeweg, è un'area sosta con accesso automatico, 24 ore su 24, ed è aperta tutto l'anno. Il costo dell'area camper, è di 25 euro per 24 ore in bassa stagione, e 30 euro in alta stagione. L'area sosta camper Brugge, è divisa in due parti, una più piccola e una con piazzole più grandi, confinante con il parcheggio dei Pullman. L'area sosta è molto tranquilla, pulita, e con piazzole su asfalto e autobloccanti. Si trova a pochi passi dal centro della città, 15 minuti a piedi e 5 minuti in bicicletta, vicino alla stazione ferroviaria, e al porto turistico. Subito all'ingresso della sbarra, troviamo lo scarico vc, e lo scarico acque grigie. Forza, segui! Ti portiamo a vedere tutta l'area sosta camper di Brugge. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!